Il coraggio di continuare, così ha chiamato il suo saluto sul Deprian della Corsa il presidente dell'associazione ciclistica marcianese Sergio Casarosa e questo è il pensiero anche del direttore generale dell'organizzazione e servizi tecnici Massimiliano Anichini e dei suoi collaboratori. Il giro delle due province per Elite Under 23 c'è anche quest'anno. Un cordiale saluto gentili telespettatori sportivi da Marciana di Cascina per la 73esima edizione di una corsa le cui origini, vogliamo dire la prima edizione, è datata a 1911. Una lunga e gloriosa storia fino all'anno scorso quando fu valevole come campionato toscano con il successo dell'Under 23 Alberto Bettiol ed il secondo posto dell'Elite Thomas e Fiumana che ottennero così i due titoli. Prima della partenza e lo avete visto dalle immagini iniziali di questo nostro servizio che vi arriva da Marciana di Cascina c'è stato l'omaggio nel cimitero a Flaminio Biasci nato nel 1899 morto nel 1992 alla bella età di 93 anni è stato per tantissimi anni il timoniere e il presidente dell'associazione ciclistica marcianese. Un doveroso omaggio, un doveroso ricordo per questo personaggio che ha animato per tantissimi anni la vita sportiva e ciclistica in particolare di Marciana di Cascina. Qualche immagine dedicata anche al team Suckling Cascine Figros guidato da Daniele Masiani il direttore sportivo della formazione pisana. Il motivo è presto detto in questa formazione portato in Italia da Franco Gini anche un colombiano Brian Ramirez del quale si dice un gran bene e da oggi iniziamo a vederlo all'opera anche in Italia. Intanto dopo il ritrovo in pratica in piazza Concordia presso il circolo Arci di Marciana di Cascina due chilometri di trasferimento per raggiungere Sant'Anna di Cascina dove di fronte a uno degli sponsor della manifestazione la ditta Vagelli Edilizia è avvenuta la partenza ufficiale alle 13.30. Sono 144 gli iscritti per questa edizione 2014 ma 113 i partenti di 18 società. Ci sono i due neocampioni regionali Stefano Verona e Giuseppe Bruvelli ed un paio di team extra regionali per un confronto tutto sulle strade pisane lungo 132 chilometri. Il percorso è un circuito da ripetere per quattro volte. Le prime due di 32 chilometri con la salita di Castel di Nocco termine di Buti. Le ultime due tornate sono di 34 chilometri e anche esse comprendono la stessa salita da Vico Pisano fino appunto al termine di Buti. Queste le difficoltà di questa competizione. Competizione che è diretta da Sanzio Rampogni e Rodolfo Gambacciani. La giuria con Ivano Gargani, Giancarlo Neri, Roberto Villani, in moto Gian Piero Pigoni. Servizio informazioni Stefano Fabri e Piero Germelli del team Radio Corsa Toscana. Cambio ruota Cicli Barone, scorta tecnica del gruppo Staffette Capannolese, coordinatore Andrea Mugnaini, servizio sanitario pubblica assistenza e misericordia di Cascina. Con il dottor Valerio Vallini, tra gli ospiti il presidente del comitato regionale toscano Giacomo Bacci. Con il vice velio Bigazzi ed il presidente del comitato provinciale di Pisa, Roberto Spadoni. Il patrocinio per questo 73esimo giro delle due province è della provincia di Pisa, del comune di Cascina. Il ritrovo presso il Circo Arci, come abbiamo detto, questa immagine ci mostra uno degli sponsor, la Capa Roll, di fronte alla quale stanno transitando gli atleti in questo momento. Il traguardo dopo 132 chilometri è posto in via Paolo Savi Sud, mentre queste immagini si riferiscono al primo vero tentativo di giornata e siamo ormai praticamente nell'imminenza della conclusione del primo giro con due protagonisti casali numero 134 dell'Unione Ciclistica Pistoiese Nuova Comauto. Il 69 invece è per l'atleta Barker. Si tratta appunto di un atleta, lo vedete in questo momento, a condurre che fa parte del Suckling Team Friuli. Gli sponsor comunque ufficiali di questa manifestazione sono il Fustelificio FM, Castelfranco di Sotto, la carrozzeria La Stella di Cascina, Marco Vagelli, materiale per l'edilizia, supermercato Conad di San Fridiano a Settimo, agenzia di viaggi Atena World Travel, la banca di Pisa e Fornacette, credito cooperativo, che ha una rete territoriale davvero diffusa sul territorio con otto sedi in provincia di Pisa e poi ricordiamo Colucci e C, assicuratori di Daniele Colucci e Graziano Diodati, Nannetti Bruciatori, Centro Polifunzionale Piccioli di Cascina, Giusti Auto Concessionaria e infine Autoscuole 3A con sedi a Cascina, Stagno, Ponsacco, Capannoli e San Giuliano Terme. Da ricordare è che la scorta tecnica garantita, come abbiamo detto, dal gruppo Staffette Capannolese si avvale anche dell'apporto della Polizia Municipale del Comune di Cascina e poi dell'Associazione Carabinieri in Congedo e dell'Associazione Volontari Falco, quindi tutti quanti impegnati per la migliore riuscita di questa antica competizione nata nel 1911. Siamo in questo momento con le immagini al secondo passaggio sulla salita di Castel di Nocco, termine di Buti, sono stati percorsi già in pratica i primi 45 chilometri della competizione, esaurito il tentativo di Barker e di Casali che ha caratterizzato la fine del primo giro. Ora questi tre atleti, Pieroni con il numero 52, Viero con il 63 e il giovane Pessotto con il numero 36, hanno un vantaggio di 30 secondi nei confronti del gruppo. Questa dunque è la situazione quando si va ad affrontare questa asperità per la seconda volta delle quattro previste. È una giornata affosa, comunque temperatura accettabile, qualche nuvolone minaccioso in lontananza, ma comunque per il momento c'è il sole, tutto si sta svolgendo in maniera regolare e tranquilla grazie all'associazione ciclittica marcianese con Sergio Casarosa e Massimiliano Anichini impegnati al massimo e a volere mantenere con coraggio questa gara. Hanno fatto ricorso agli sponsor, alle istituzioni, hanno ricevuto ancora il sostegno necessario per mantenerla in calendario nel tradizionale mese di luglio. Tanto terminata praticamente la salita, almeno nel tratto più impegnativo per quanto riguarda il secondo passaggio con i tre atleti al comando, con un vantaggio che rimane attorno ai 30 secondi nei confronti del gruppo per Pieroni, l'atleta della Big Hunter seanese, per quanto riguarda poi Viero della Sackling Team Friuli e quindi Pessotto della Mastro Marco Chianti Sensi Dover, mentre vediamo in questo momento che le macchine intendono superare gli atleti perché siamo al culmine della salita, inizia il tratto in discesa verso Buti e Cascine di Buti, ma soprattutto anche perché il gruppo lo sembra recuperare nei confronti dei battistrada ed eccolo, sta arrivando in questo momento comunque sempre 25 secondi, dividono il gruppo condotto da ben 6 atleti in casacca bianco-rossa della malmantile Romano Gaini Taccetti, Viverte Italia, rispetto ai tre che stanno comandando questa competizione subito veloce, media attorno ai 42 orari per questo 73esimo giro delle due province. Abbiamo detto prima edizione nel 1911, tra i suoi vincitori vogliamo ricordare Rino Benedetti e poi ricordiamo anche la doppietta di Serge Parsani, attuale tecnico nella formazione della Neri Sottoli con Luca Scinto, poi Palmino Masciarelli, anche una doppietta per Giancarlo Montedori, Sandro Manzi che vinse nel 1984, mentre le ultime 10 edizioni della competizione firmate da Giovanni Visconti nel 2004 e poi a seguire da Ricciardi, Proni, Tretacaf e quindi ancora Volic, Bani, Favilli, Artundiaga, Buzzi e l'anno scorso Alberto Bettiolo. Siamo al terzo passaggio ormai dalla salita, abbiamo superato anche la località di Vicopisano che avete visto nelle immagini iniziali di questa fase della corsa e vediamo in questo momento questo terzetto che sta prendendo vantaggio nei confronti del gruppo con il numero 110 Tortomasi della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, ora a fare l'andatura, abbiamo con il numero 4 Marchini, atleta che gareggia nella formazione della TSS Amore e Vita e il 62 Grazian, altro atleta della Suckling e Team Friuli. Questi gli atleti al comando, ricordiamo oltre a Casarosa e a Anichini anche Colombini, Morganti, Granchi, Raffaniello, Paoletti, Izzo, Anich Salvati, Gelli, Biasci e Frassi per quanto riguarda altri collaboratori, altri addetti ai lavori per questa manifestazione che ha gli sponsor principali nel Fustelificio FM e poi Carrosseria La Stella, Marco Vagelli Edilizia, Supermercato Conad, Agenzia di Viaggi Atena, World Travel, la banca di Pisa e Fornacette, Credito Cooperativo, Coluce C, Assicuratori, Nannetti Bruciatori, Centro Polifunzionale Piccioli, Giusti Auto Concessionari a Fiat e Autoscuole 3A. Questi dunque sono gli sponsor, mentre vediamo in questo momento che si sta avvicinando al terzetto ed anzi praticamente lo raggiunge in questo momento, cresca, vediamo infatti il corridore della Maltinti Lampadari Banca Cambiano che è rientrato sul compagno di squadra che era nel terzetto, vale a dire Tortomasi e quindi ha iniziato questo tentativo solitario, mentre gli altri tre che hanno comandato per circa due chilometri la gara lo stanno seguendo. Sta arrivando in questo momento il gruppo, siamo ormai a 25 secondi di ritardo, la formazione del team Rosini Matricardi nelle prime posizioni a condurre, poi compagni di squadra di Cresca e l'altro corridore della Maltinti, vale a dire Tortomasi, mentre in questo momento allunga Davide Tintori, il pisano della Gagnano Sporting Club che lo vedete in questo momento va a superare Francesco Marchini del TSS Amore Vita, si stanno muovendo altri atleti in questo momento quindi è una lotta abbastanza bella quella che ci mostra la corsa in questo passaggio sulla salita del termine di Buti, terzo passaggio dei quattro previsti e quindi si sprinta naturalmente anche per il Gran Premio della Montagna, vedete come Tintori abbia raggiunto Cresca, poi c'è anche Campigli, lo vedete infatti in questo momento il corridore di Vecchiano che sta attraversando un ottimo periodo di forma, mentre Cresca là davanti mantiene ancora qualche metro di vantaggio ma ormai Tintori è sulla scia, quindi gli atleti di Alfredo Luddi, protagonisti prima con Tortomasi poi con l'uscita di Cresca, quella successiva di Campigli ed ora tre atleti al comando ma gruppo praticamente lì ad una cinquantina di metri ed è Davide Tintori che in questo momento guadagna la testa del gruppo di testa allungato, praticamente si può parlare di gruppo sfilacciato, frazionato ma sostanzialmente compatto, terzo passaggio abbiamo detto dal termine di Buti, siamo esattamente al chilometro 83 di gara, mancano ancora circa 49 chilometri alla conclusione, si dovrà tornare da Marciana di Cascina e ci sarà in quel caso l'unico passaggio dalla zona del traguardo per questa competizione, per questo 73esimo giro delle due province. E con le immagini siamo a circa una quarantina di chilometri dalla conclusione, avete visto il giudice moto, Giampiero Pigoni, che arriva da massa in servizio in questa competizione, ne approfittiamo per ricordare che i suoi colleghi sono Gargani, Neri e Villani, giudice di arrivo, situazione che vede sei atleti al comando, sono appena usciti da poco dal gruppo questi sei protagonisti, quando mancavano circa 44 chilometri alla conclusione, eravamo in pratica nella zona pianeggiante dopo Cascine di Buti, quando hanno allungato Bolzan numero 66 del team Suckling Friuli, Antonio Zullo numero 26 e Niccolò Pacinotti numero 34 della Mastro Marco Chianti Sensi Dover, 54 per Adriano Sacchetti del team Suckling e Cascine di Buti Figros, il 91 Davide Tintori della Gragniano Gesam, che avete visto molto attivo anche in una precedente azione sulla salita del termine di Buti e infine con il numero 102 anche Mattia Zennaro della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, altra formazione sicuramente tra le più brillanti quest'oggi in questa competizione. Questi sei atleti hanno portato il vantaggio già ad una ventina di secondi, l'accordo è buonissimo nel sestetto al comando della gara e quindi dietro il gruppo sta cercando di organizzare l'inseguimento con i compagni di squadra dei vasti strada al lavoro per frenare questa rincorsa. Bolzan, Antonio Zullo, Sacchetti, Tintori, Zennaro e Pacinotti che rivediamo con piacere in un'azione all'attacco, i protagonisti di questo tentativo di fuga quando la corsa sta tornando nuovamente verso Marciana di Cascina quando ci sarà il passaggio dalla zona del traguardo, il suono della campana perché mancheranno gli ultimi 34 chilometri alla conclusione, è previsto anche un traguardo volante da parte degli organizzatori, quelli dell'associazione ciclistica marcianese, capitanati da Sergio Casarosa. Avete visto proprio il passaggio in questo momento dalla zona di arrivo, è suonata la campanella per i sei protagonisti che hanno iniziato in questo momento l'ultimo giro, stanno attraversando l'abitato di questa piccola frazione nel comune di Cascina, Marciana, stanno per immettersi tra non molto dopo aver effettuato anche il passaggio dal sottopasso ferroviario, stanno per immettersi sulla statale tosco romagnola e il gruppo con tante maglie della malmantile Romano Gaini, Taccetti, Viverte Italia impegnate sulla testa a condurre l'inseguimento almeno in questa fase della corsa che si riferisce, come abbiamo detto, al passaggio all'inizio dell'ultimo giro. E continua l'azione da parte dei sei, prima di tornare ad affrontare la salita di Castel di Nocco e termine di Buti, 54 per Sacchetti, il 26 Antonio Zullo, il 66 Bolzan, il 91 Tintori, il 102 Zennaro, il 34 Pacinotti. Questi protagonisti di questa fuga in atto ormai da una quindicina di chilometri perché è nata, come abbiamo detto, quando mancavano poco più di 40 chilometri alla conclusione, mentre vediamo in questo momento proprio che sta sfilando Zennaro per andare a fare il proprio turno sulla testa del sestetto al comando. Fustelificio FM, carrozzeria La Stella, Marco Vagelli, materiale per l'edilizia, supermercato Conad, agenzia di viaggi Atena, la banca di Pisa e Fornacette, credito cooperativo, Colucci e C, assicuratori, nannetti bruciatori, centro polifunzionale piccioli, giusti auto, concessionari a Fiat, Alfa Romeo Lancia e Autoscuole 3A di Cascina sono gli sponsor ufficiali per quanto riguarda questa competizione che ha visto al Via 113 Elite Under 23 in rappresentanza di 18 formazioni. Questa volta invece la squadra diretta da Franco Chioccioli, ovvero il team Rosini Matricardi Futura a condurre l'inseguimento con decisione. Il vantaggio è rimasto inalterato, almeno negli ultimi chilometri, tra i 20 e i 30 secondi, ma naturalmente sarà importante vedere soprattutto come verrà affrontata la salita del termine di Buti che ormai non è lontana perché siamo già nella zona di Vico Pisano con il sestetto che mantiene ancora un margine che si è ridotto a 20 secondi. Questa dunque è la situazione quando mancano circa 20 chilometri alla conclusione della gara. Dietro il gruppo sta incalzando, ormai da qualche chilometro, ha nel Mirino i sei di testa che sono condotti in questo momento da Davide Tintori, il quale opera il proprio turno, è un Pisano nella zona di Villa Campanile, nella zona di Castelfranco di sotto. Ora anche Bolzan ha effettuato il proprio turno, poi Sacchetti, l'atleta della Sacring Team Cascine Figros che ha operato il proprio turno, mentre in questo finale di corsa, lo vedete forse anche dall'obiettivo della telecamera, le prime gocce di pioggia, quindi un finale che potrebbe riservare proprio alla corsa, agli atleti, a coloro che sono impegnati in questa manifestazione, anche la pioggia, un inconveniente che non ci voleva, mentre vediamo in questo momento Pacinotti a condurre, eccolo qua, un atleta che destò grande ammirazione a livello di Juniors, primo anno, tanta sfortuna poi per lui, oggi lo abbiamo rivisto con piacere in un tentativo di fuga, tentativo di fuga che è stato appena neutralizzato perché grazie all'ultima tirata vehemente della formazione valdarnese del team Futura Rosini-Matricardi, il gruppo è tornato compatto e praticamente va ad iniziare la salita di Castello di Nocco, termine di buti e compatto, forte ancora di un'ottantina di atleti. Tutto quindi da decidere quando siamo esattamente al chilometro di gara 115, mancano 17 chilometri alla conclusione, sono proprio gli atleti della formazione di Franco Chioccioli che erano sulla testa del gruppo dopo aver condotto lo stesso alla caccia, all'inseguimento felicemente concluso dei sei che hanno comandato per una ventina di chilometri circa questa competizione, il vantaggio massimo è stato di 25 secondi per i battistrada che erano, lo ricordiamo, Bolzan, Antonio Zullo, Sacchetti, Tintori, Zennaro e Pacinotti e in questo momento c'è un nuovo allungo, la formazione di Marcello Massini lancia Luca Cappelli, Luca Cappelli in grande forma, secondo nel campionato regionale di sabato scorso ed una settimana fa a Montalto, alle spalle di Stefano Verona ed è lo spezzino che sta facendo l'andatura in questo momento, c'è poi Adriano Brogi, lo vedete in questo momento in quadrato, è in terza posizione, poi l'atleta anche del Fracor, si tratta di Giovanni Petroni che fa parte del terzetto, mentre è in questo momento Krivosev, il corridore russo che lo ricordiamo quest'anno ha ottenuto il secondo posto nel campionato nazionale, il campionato nazionale italiano, il campionato italiano elite svoltosi a Montalese, Krivosev in questo momento sta riprendendo praticamente il primo atleta Petroni della Fracor, ora va alla caccia degli altri due che sono rimasti al comando, Cappelli e Brogi, quindi bravo anche il Valdarnese, quindi Adriano Brogi del team Futura Matricardi che è uscito prontamente, lo vedete con il numero 83, all'inseguimento di Luca Cappelli, un atleta in grande forma, il quale è partito con estrema decisione nel tratto di salita, ora invece la strada è meno difficile per gli atleti, ma intanto aumenta di intensità anche la pioggia, quindi sarà un'insidia anche la discesa verso buti, verso cascine di buti per gli atleti ma anche naturalmente per le moto, per tutti i vari addetti ai lavori impegnati in questo 73esimo giro delle due province. Si alza sui pedali Luca Cappelli, Brogi lo segue ma anche gli altri si stanno avvicinando perché non mollano assolutamente, mentre è Brogi che è passato per primo al Gran Premio della Montagna, dietro avete visto prima naturalmente il corridore della Fragagnano, Cappelli, poi avete visto anche Trosino che è transitato in terza posizione, poi avete visto passare anche il campione toscano della categoria Under 23 Verona, un po' ora stanno transitando un po' tutti gli altri, si è frazionato ma in 25-30 secondi praticamente ci sono almeno 70 corridori quando mancano una quindicina di chilometri alla conclusione. Una corsa dunque questa di Marciana di Cascina tutta da decidere con questa discesa insidiosa e sotto la pioggia a tratti davvero torrenziale in questo finale nella zona tra Bientina e San Giovanni alla Vena è nato il tentativo che era già in atto in salita perché Brogi aveva vinto il Gran Premio della Montagna, Krivoshev era praticamente nelle prime posizioni e i due eccoli qua all'attacco con 20 secondi di vantaggio. Qualche stagione fa erano assieme nella formazione che Loriano Brogi, il papà di Adriano, aveva allestito a Castelfranco di sopra quindi sono due amici, questi due atleti che in questo momento stanno comandando la gara, l'accordo è buonissimo e Adriano Brogi che vediamo oggi in gran spolvero in questa competizione con Krivoshev, altro atleta di cui ultime prove lo hanno segnalato tra i più bravi, tra i più brillanti e qualche istante fa abbiamo ricordato il suo secondo posto nel campionato italiano alle spalle di Davide Pacchiardo che ottenne il titolo Elite a Montalese. Il gruppo è a 20 secondi, mancano ormai meno di 10 km alla conclusione, una decina di km circa al traguardo, ora stanno lavorando gli atleti del Graniano ad iniziare da Davide Tintori, vedete ci sono almeno altre tre maglie e poi con il numero 46 questo è Giuseppe Brovelli il Pratese campione toscano Elite della Big Hunter seanese, c'è il suo compagno di squadra Daniele Bellini che sta facendo in questo momento l'andatura, poi si porta in questo momento a fare la stessa anche Luca Cappelli, naturalmente dobbiamo sottolineare che ci sono ottimi velocisti in questo gruppo e naturalmente l'intendimento dei suoi compagni di poterli portare a disputare lo sprint, il riferimento alla Graniano è soprattutto per Alban e soprattutto per Amicabile che sono i velocisti di riferimento della squadra di Marcello Massini. Comunque 20 secondi da recuperare quando siamo a 7 km dalla conclusione, per fortuna la pioggia che abbiamo detto per qualche istante è stata davvero torrenziale, non è in questo momento della stessa intensità, quindi una situazione che è naturalmente migliorata da questo punto di vista e la coppia al comando continua in questo momento questo tentativo davvero bello di fuga, 15 km al traguardo quando hanno preso l'iniziativa Adriano Brogi al comando e Eugenio Krivosev che lo sta seguendo, questi i due protagonisti di questo finale di gara con 20 secondi da recuperare per il gruppo, c'è la possibilità naturalmente di farlo perché mancano 6,5 km alla conclusione ma stanno andando veramente forti questi due atleti. Allora noi andiamo a ricordare per l'ultima volta che il patrocinio a questa gara è stato della provincia di Pisa, del comune di Cascina e poi della banca di Pisa e Fornascette Credito Cooperativo, oltre agli sponsor Fustelificio FM, Carrozzeria La Stella, Marco Vagelli Edilizia, Supermercato Conad, Agenzia di Viaggi Atena, Colucci e C, Assicuratori, Nannetti Bruciatori, Centro Polifunzionale Piccioli, Giusti Auto Concessionaria, Autoscuole 3A di Cascina. Un ottimo lavoro da parte degli organizzatori, mentre vedete come la situazione nell'avvicinarsi a Marciano di Cascina sia migliorata dal punto di vista meteorologico perché qui non è piovuto, la strada praticamente non è viscida, non è pericolosa, quindi uno scroscio di pioggia all'uscita dalla salita di Termini di Buti per circa 5 chilometri ha accompagnato gli atleti. Vediamo impegnati sempre gli atleti della Gragniano Gesame a condurre, ci sono anche i corridori della Big Hunter Seanese, sta lavorando molto Luca Cappelli, sta facendo altrettanto Davide Tintori, sono ben 4 i corridori della formazione lucchese di Massini, un paio quelli del team di Filippo Fuocchi in questo finale, ma sono sempre 18 secondi di vantaggio per quanto riguarda la coppia al comando che non diminuisce il suo margine davvero importante ed eccoci al cartello dei 4 all'arrivo appena superato da Adriano Brogi e da Krivoshev. Accordo perfetto in volata, non sapremo sicuramente dirvi a questo punto chi possa essere più veloce fra questi due atleti che naturalmente si stanno impegnando comunque al massimo, entrambi meritano di salire sul podio perché hanno dato vita a questa bella fuga conclusiva in perfetto accordo, d'altra parte abbiamo ricordato i trascorsi nella stessa formazione, quindi due amici che oggi sono divisi soltanto dal colore delle maglie ma che si stimano entrambi profondamente. Krivoshev a fare l'andatura con Brogi in seconda posizione, si avvicinano loro al cartello dei 3 km e quindi alla zona in pratica di Cascina perché questa è la deviazione a sinistra verso il ponte sul fiume Arno, mancano infatti 3 km in questo momento al traguardo e ancora 20 secondi da recuperare per il gruppo che non è riuscito a guadagnare nulla nei confronti di questi due atleti nonostante l'insistente inseguimento operato soprattutto dagli atleti della Gragnano e della Big Hunter, molto probabilmente salirà a condurre il gruppo anche la malmantile Romano Gaini Taccetti, almeno sarebbe auspicabile tenuto conto che ha un ottimo velocista, tra l'altro corre davvero a due passi da casa perché è di San Frediano a settimo, anzi di San Lorenzo alle corti per essere più precisi Eugenio Bani e quindi a lui in caso di arrivo allo sprint fanno affidamento i dirigenti di malmantile. Vediamo in questo momento Giampiero Pigoni, il giudice in moto, siamo all'attraversamento di Cascina, ora si troveranno la rotonda, si trova in questo momento la rotonda, si prosegue ancora in direzione dell'arnaccio, poi la deviazione a destra quando mancheranno 1,5 km alla conclusione e intanto superato anche il cartello dei 2 km al traguardo, là in fondo lo avete visto il gruppo ma sono ancora 15 secondi di vantaggio per i due e un vantaggio ancora buonissimo. Avriano Brogi, grande prestazione la sua così come quella del russo Krivosev, ci potrebbe essere davvero grande soddisfazione per Renzo Maltinti, per Gian Piero Ragionieri, Alfredo Luddi direttore sportivo della formazione quest'oggi in caso di vittoria in un momento importante per questa società, chiamata ad organizzare anche la partenza del Giro della Toscana Professionisti che partirà da Empoli il 27 di questo mese per concludersi ad Arezzo e giovedì prossimo ci sarà la presentazione ufficiale proprio ad Empoli, ormai sono al triangolo rosso in pratica dell'ultimo chilometro i due atleti con Krivosev che sta facendo l'andatura, ai due chilometri avevano ancora 14 secondi di vantaggio e quindi quando siamo invece a mille metri dalla conclusione è pressoché invariato il vantaggio per i due atleti perché si volta il nostro operatore c'è ancora un vuoto alle spalle dei due battistrada, il margine da recuperare a questo punto ci sembra davvero impossibile poterlo fare da parte del gruppo con Krivosev che compie un'ulteriore lunga tirata prima della deviazione a destra e saremo sul rettinio di arrivo a circa 300 metri dalla conclusione su via Paolo Savi. Si va a concludere il 73esimo giro delle due province a Marciana di Cascina in provincia di Pisa, se lo giocano il russo Eugenio Krivosev e il valdarnese Adriano Brogi, questi due atleti lanciato ormai lo sprint, si voltano per vedere se arriva qualcuno, non è così, allora parte Krivosev, Brogi cerca di replicare ma Krivosev si mantiene saldamente al comando, Brogi non è in grado di superarlo ed è Krivosev che va a vincere davanti a Brogi. E queste sono le immagini dalla telecamera fissa con Krivosev che ha lanciato lo sprint, Brogi cerca la rimonta ma nulla da fare perché Krivosev mantiene saldamente il primo posto e va a vincere il giro delle due province. Secondo è Brogi, ora teniamo lo sprint del gruppo, eccolo ed è amicabile che vince lo sprint davanti a Bani, Viero, Stamegna, Corrattrosino, Luisi e Raffaele. Questo è l'ordine d'arrivo dunque, otto secondi il ritardo per amicabile che ha vinto la volata del gruppo, il successo invece a russo Eugenio Krivosev davanti all'ottimo Adriano Brogi. Siamo con Marco amicabile, un po' di amarezza ci sarà sicuramente in te perché abbiamo visto l'autorevolezza con la quale hai vinto la volata del gruppo e là qualche secondo più avanti c'erano i due che sono stati imprendibili? Sì, devo dire un grazie enorme alla squadra che i miei compagni hanno fatto un lavoro egregio in salita e purtroppo quei due hanno anticipato, hanno fatto la riscensa fortissimo, ha iniziato a piovere, io avevo solamente tre compagni a disposizione e i due davanti sono andati fortissimo purtroppo, dico purtroppo perché poteva essere una vittoria in più però fa parte del gioco. Un segnale importante comunque sulla tua condizione in questo momento importante dell'attività? Sì, da qui fino a fine stagione non voglio fare altro che migliorare, ho avuto dei problemi dopo marzo, ho avuto dei problemi, sono stato fermo a lungo e spero che la squadra mi dia ancora fiducia e continuerò fino a settembre. Bucca il lupo. Crepi il lupo. Ed eccoci con il vincitore di questa prova e poi con Adriano Brogi che è altro protagonista qua, se ci può raggiungere, grazie. E allora, è arrivata finalmente la vittoria, attesa, inseguita e ottenuta in una corsa antica perché questa era la 73esima edizione. Sì, è finalmente arrivata questa vittoria e sono molto contento, poi non mi aspettavo nemmeno perché oggi si doveva fare la corsa per un altro mio compagno, poi in finale insomma ero io davanti e abbiamo preso un po' di vantaggio con Adriano, insomma sono passato anche gli anni anche con lui in squadra, poi siamo della zona che siamo amici, si andava d'accordo fino all'ultimo e poi in volata è andata meglio per me. Però volevo fare complimenti anche a lui perché lui è andato veramente forte. Una vittoria che conferma la tua ottima condizione anche in precedenti gare, eri stato protagonista, eri andato vicino alla vittoria voglio dire. Sì, anche gli ultimi corsi non sono andati male perché anche a campionato nazionale sono arrivato secondo e poi sono stato ultimamente sempre vicino però ci mancava solo la vittoria. Sono molto contento e volevo ringraziare tutta la mia squadra, tutti i presidenti, il direttore sportivo, tutta la società, tutti i nostri sponsor perché per noi fanno di tutto. Un bel ringraziamento a loro, penso. Grazie, complimenti, eccoci con Adriano Brogi. Che effetto fa essere battuto da un amico? Beh, brucia sempre, brucia sempre, si vorrebbe sempre vincere. No, a parte gli scherzi è nulla. Di tutti quelli mi potevamo battere, dai. Diciamo è un po' meglio ma abbiamo battuto lui. È nulla. Ho tentato un seto ad andare via insieme al ragazzo da Gragnano. Poi siamo andati via io e Kribuschev. Abbiamo cercato di andare a tutta fino all'arrivo. Mi è mancato un po' di gambe sotto l'arrivo e mi ha battuto. Niente, voglio ringraziare tutta la squadra che ha lavorato veramente tanto per gli ultimi giri, per farmi iniziare la sedia davanti, per provare ad attaccare. Insomma, questo piazzamento va per loro, per tutta la squadra, risponso, Franco e tutti. E anche il mio babbo che mi segue comunque. Tra l'altro ci risulta che hai vinto anche il Gran Premio della Montagna, quindi una soddisfazione in più. Eh sì, insomma dai, passare il primo Gran Premio della Montagna vuol dire in salita si va bene. Alla prossima. Grazie. Bene, grazie Adriano, complimenti e naturalmente da un sorriso all'altro perché tutto lo staff della Maltinti Lampadari Banca Cambiano è naturalmente in grande euforia per questo successo, il secondo stagionale, Krivoshev è secondo nel campionato nazionale russo, oggi davvero due grandi protagonisti perché il gruppo era lì a 20 secondi e hanno tenuto, non hanno mollato per 13-14 chilometri. Renzo Maltinti. Sì, diciamo che questo ragazzo effettivamente va un po' su tutti i campi, ma in pianura specialmente credo che abbia dato un apporto veramente importante come l'ha dato senz'altro anche Brogio. credo che la condizione ce l'abbia e si era già visto a una ventina di chilometri prima dell'arrivo, il mio ragioniere si era espresso in certe maniere e forse l'ha indovinata, diciamo, sotto un profilo anche a prevedere certe cose prima perché il ragazzo sta attraversando un periodo buono, la squadra c'è, mi pare che nei primi 15 si sia 4-5, non lo so, comunque diciamo che queste sono vittorie che fanno bene a tutti, a noi, all'esponso, a tutti i sacrifici anche che fanno i direttori sportivi e tutto per seguire questa grande squadra. Alfredo, arrivano dunque i risultati, diversi piazzamenti, c'erano state nelle ultime gare, ottimi protagonisti, mancava questo successo dopo quello appunto tra gli Under 21 di Friscia. Ma mancava questo successo, nelle ultime corse è andata anche abbastanza bene, Eugenio è arrivato secondo anche al campionato italiano e purtroppo vincere è difficile, però i ragazzi erano sempre lì nella corsa e quando siamo sempre là, prima o poi succede che si vince sicuramente. Speriamo di continuare, i ragazzi stanno bene e poi con Eugenio sì, che loro dà fiducia anche a tutti quegli altri ragazzi e si spera in un grande finale di stagione. Le gare sono tante, naturalmente c'è la possibilità, diciamo sì, di riscattare una prima parte che forse è stata un po' al di sotto delle attese? Ma sì, è stata al di sotto delle attese, però nella prima parte secondo me le corse erano, si svolgevano in una maniera che per tanti corridori non riuscivano a esprimersi. Con l'arrivo delle corse dure i nostri corridori cominciano a far vedere il suo valore. Gian Piero Ragionieri, Vicepresidente, una vittoria che ci voleva, una vittoria inseguita in un momento particolare per la vostra società, giovedì prossimo, anzi 17, la presentazione presso la SESA Progetti del Giro della Toscana Professionisti che partirà da Empoli, siete direttamente interessati. Un momento insomma di grande festa per voi. Sì, è un momento che questa vittoria ci voleva sia per noi sia anche per i ragazzi, perché quel ragazzo lì ha un grande motore e si merita di vincere il più possibile. E poi anche per noi perché stiamo organizzando diverse cose, abbiamo in città di vinci, poi abbiamo gambarsi, cioè devo dire organizziamo e guardiamo di fare il massimo dell'organizzazione, però siamo una società che ci piace partecipare, però ci piace anche vincere ogni tanto. Niente, è una bellissima squadra, a noi ci mancavano le vittorie, siamo arrivati vicini al campionato italiano, siamo arrivati vicini al campionato Toscano dell'Elite, saremo un po', diciamo anche un po' inagitati, perché quando arrivi lì vicino e la maglia non la vesti. Oggi questa vittoria subito va bene sia per il ragazzo, per la squadra e sia anche per i Ludi, perché giustamente quando non va sul podio e anche lui non è tanto tranquillo, invece se fai risultato pieno lavorano tutti in una tanta tranquillità in un altro modo. La panchina non traballava, era sempre salda. C'è a sette gambe la nostra panchina, non ha mai traballato. Siamo con Sergio Casarosa, ovvero il presidente dell'Associazione Ciclistica Marcianese. Presidente, nel tuo saluto, nel Deplian abbiamo letto una frase davvero importante, quella di continuare, il coraggio di continuare, di proseguire. Sì, effettivamente purtroppo è così. Tutti conosciamo le condizioni economiche che purtroppo non solo da noi, ma anche da altre parti d'Italia, sono un po' disastrosse. Noi speriamo soltanto che gli sponsor di quest'anno credano ancora e capiscono ancora che questo tipo di ciclismo deve ancora sopravvivere, non deve, altrimenti... Per il resto sei soddisfatto? Di più, giuro di più. La mia preoccupazione che tu sai è l'arrivo, perché ovviamente a volte ci può essere qualcosa che verrebbe a turbare una corsa che mi hanno detto, io non ero, come hai visto, ero qui all'arrivo, ma hanno detto che è stata perfetta, non grazie a noi, ma diciamo grazie un po' a tutti. Grazie prima, ovviamente lo sai, ai collaboratori, perché io sono solo il burocrate che gestisce, però sono loro che lavorano. E grazie un po' a tutti e anche al Paese. E ovviamente le istituzioni, i carabinieri, i vigili e chi più ce ne ha, più ce ne mette, però veramente tutti hanno dato una mano importante perché questo centotresimo giro delle due province va davanti. Grazie a te, Sergio, complimenti, come complimenti, dopo naturalmente sentiremo il vincitore, a Massimiliano Lichini, direttore generale dell'organizzazione, altrettanta soddisfazione in tema, Massimiliano. Sì, sì, no, ho avuto anche fra l'altro i complimenti pochi minuti fa, che quando ci siamo noi, insomma, è tutto il nostro staff. La corsa si fa e si fa tutta perfettamente, senza nessun problema nel percorso e di niente, ecco. Io l'unica cosa che voglio dire è che, grazie agli sponsor, perché questi sono loro che ci fanno fare la corsa. Quindi io spero anche nell'anno prossimo loro continuano a darci una mano perché la voglia di continuare c'è. Quindi sta a loro a giudicare, sia da parte nostra che, insomma, dal loro potere di contributo di poterci fare la corsa. Tutta, noi concludiamo qui dal Giro delle Due Province, 73esima edizione, ricordando il successo dunque, Diogeni Krivoshevi, il corridore russo della Maltinti-Lampadari-Banca-Cambiano, vice campione italiano Elite. Al secondo posto, Adriano Broggi del team Futura Rosini-Matricardi, terza posizione per Marco Amicabile della Gragnano, che ha vinto la volata del gruppo a 12 secondi dai primi due. Ed è tutto da Marciana di Cascina, grazie per averci seguito. A tutti, buon prossimo evento di serata.